Siamo qui all'Acqua Solfuria, a proposito di quei lavori che dovevano partire, poi si sono fermati, come stanno le cose? Si dice che l'amministrazione non sta facendo nulla per l'Acqua Solfuria, anzi se ne disinteressa completamente. E invece io, con dati alla mano, con i fatti e non con le chiacchiere, dimostro che l'Acqua Solfuria, io e la mia amministrazione vorrebbe farla riportare come un bene fruibile per tutta la città. Perché? Perché abbiamo approfittato di un bando nazionale per poter chiedere un finanziamento consistente di oltre un milione di euro per poter completare le opere in corso. Che cosa è successo? Noi ci siamo insediati e abbiamo trovato un cantiere, un plesso completamente chiuso, sbarrato, con dei lavori in corso, lavori però fermi, completamente fermi. La notizia qual è? Che sono stati fatti su un finanziamento di circa 900 mila euro che abbiamo trovato, lavori per circa 300 mila euro, cioè lavori in itinere, non completati. Questi lavori risultano fermi perché? Perché l'impresa ha lavorato e non è stata pagata. Chiedendo abbiamo chiesto notizie all'ente finanziatore che è la regione e i soldi sono, come per incanto, spariti. Praticamente tutti i 900 mila euro di finanziamento sono andati in perenzione, si dice, cioè praticamente non risultano nella contabilità dell'ente regione. Dopo che sono stati presi degli impegni, dopo che dei lavori sono stati addirittura, se è stato fatto un appalto, quindi ho tutta una serie che è conseguenziale, una serie di atti amministrativi, quindi dei liberi, impegno di spesa e quant'altro. Lavori fatti, quindi contratto, lavori fatti, eseguiti e non pagati, perché i soldi non ci sono. Ecco perché dice, l'amministratore non fa niente, ma come si fa a lavorare in una situazione del genere? In una situazione di disastro, di come questa? Adesso stiamo con una serie di incontri fatti a livello regionale, soprattutto a livello dirigenziale, perché i fondi c'erano, quindi bisogna ritrovarli a tutti i costi. Poi mi sono ancora spaventato, perché ho visto sul bilancio regionale che questi fondi non apparivano, mi sono spaventato ancora di più, nonostante avessi avuto delle rassicurazioni. Finalmente, pare, in alcuni residui sarà possibile recuperare queste risorse e mettere a posto le cose. Intanto, al Comune è arrivato un'ingiunzione di pagamento, è arrivato un pignoramento, insomma, siamo messi in queste condizioni, quindi ditemi voi come facciamo ad andare avanti. Quindi, con un problema del genere, noi abbiamo tutta la voglia di fare, tant'è che abbiamo richiesto un nuovo finanziamento per completare, finalmente rendere fruibile un posto che è bellissimo, che ha delle risorse magnifiche per tutta la nostra collettività. Questo è l'impegno, chiaramente, dopo che risolviamo i problemi che abbiamo trovato.